ciao a tutti anche questo video in collaborazione con la marco bindi live band e sono come sempre berta filava tutti i contatti per raggiungermi li trovate come sempre nella descrizione unita al collegamento con le altre playlist lasciate un like e iscrivetevi al mio canale allora oggi vediamo una scatolina di mia produzione e fello troverete scaricabile su berta filava store allora è composto da due schermini che voi stamperete secondo la grandezza di cui avete bisogno in questo momento lo usate come porta bomboniere poi a natale vi farò vedere come usarla e scaricabile in maniera del tutto gratuita dobbiamo creare avrete due schermini in più dello schemino ci saranno delle righette che voi dovrete incidere sul cartoncino voi le andate a piegare vedete e ridare la forma seguendo questa guida è un progetto semplicissimo ragazze vi farò vedere a natale come sfruttare questo progetto cosa facciamo con la colla incolliamo prima e laterali facendo combaciare le due alette e ragazze voglio ringraziarvi siete tantissimi ripeto questo file sarà scaricabile in maniera del tutto gratuita su berta filava store e vi consiglio di seguire berta filava pagina facebook e per vedere come usare a natale questo progetto sarà molto simpatico vedete incolliamo prima i laterali vedete poi chiudiamo le lette sottostanti la parte più corta va all'interno la parte più lunga all'esterno ma vi si chiuderà in maniera praticamente naturale cliccate il litino dentro per farlo combaciare questo periodo sono di progetto stelline le scatolette vi faccio vedere come usare i miei disegni mi raccomando su berta filava store trovate tutti i miei file tutti i miei schemi non venite su facebook perché mi passi lo schema della scatola stella no dovete scaricarlo su berta filava store il blog il collegamento sta nella playlist vedete è già pronta bella come il sole perché veramente vedete c'entrano se lo state come bomboniera c'entrano come porta bomboniere cinque confetti eccola qui davanti potete mettere che non è solo una stellina in gomma eva con l'orsetto quello che vi piace di più ok vi faccio vedere anche la scatolina del video successivo un attimino eccola questo invece sarà un po diciamo uno schermino forse molto probabilmente questo è quello gratuito questo probabilmente sarà leggermente a pagamento ringrazio tutte siamo tantissime lasciate un like iscrivetevi al mio canale ci vediamo il prossimo video ciao ciao ciao